peppa pig l'ospedale all'asilo è l'ora della ricreazione peppa e i suoi amici corrono e si divertono in cortile a un certo punto peppa inciampa e cade per terra ai che male non è niente di grave peppa la tranquillizza la maestra ti sei solo sbucciata il ginocchio la maestra disinfetta il ginocchio di peppa e le mette un cerotto poi la maestra fa un annuncio alla classe il vostro amico pedro poni non è venuto a scuola perché in ospedale oggi andremo tutti a fargli visita peppa e i suoi amici vanno all'ospedale con l'autobus pedro si trova al reparto dei piccoli per andarci bisogna prendere l'ascensore il reparto dei piccoli ha le pareti tutte colorate qui lavorano i dottori e gli infermieri che curano i bambini che stanno male ecco pedro poni ciao amici miei esclama pedro è molto felice di vederli mi sono rotto la gamba e i dottori mi hanno messo questo gesso spiega pedro io invece mi sono sbucciata il ginocchio e la maestra mi ha messo questo cerotto racconta peppa è molto fiera di mostrare la sua ferita a pedro vi va di fare un disegno sul mio gesso chiede pedro i suoi amici peppa disegna una pozzanghera di fango pedro è finalmente tornato a scuola non ha più il gesso perché la sua gamba è guarita e ora è più forte di prima anche il ginocchio di peppa è guarito e il cerotto non le serve più fine